Benvenuti a tutti i partecipanti. Quindi, le volte scorse. Questo è l'ultimo incontro. Tanto ringrazio, come sempre, Giuliana, ringrazio Guida Ascheri, Ascheri Academy, Simona e tutti il lavoro che c'è dietro questi seminari. Poi, ovviamente, io uccido tutto perdendomi nelle slide. Allora, questo è il quarto, dicevo, incontro che probabilmente avrebbe richiesto spazi più ampi, ma il tempo di programmazione, anche il mio tempo, in qualche modo consideriamolo una prima finestra per chi fosse interessato. Io ripeto che comunque tra gli iscritti ci sono sia commercialisti che avvocati che giuristi d'impresa. Ci sono molti studenti, ci sono imprenditori, quindi devo cercare di cogliere un po' tutto senza scontentare nessuno. Insomma, è sempre complicato in questi casi. Comunque, la volta scorsa ci siamo, in particolare, ci siamo addentrati nell'aspetto un po' più pratico. Cioè, quello di, comunque, l'ultima cosa che ci siamo riusciti a dire, che ci siamo detti la volta scorsa, quello di iniziare comunque un processo ISG, di rendicontazione, anche se può sembrare particolarmente complesso, può esserlo. La cosa peggiore che si possa fare è quindi rinviare e non iniziarlo mai. Quindi ci siamo detti, ci eravamo dati anche, vi avevo dato una veloce scaletta di come io approccio le imprese che perlomeno per quel primo anno di approccio alla sostenibilità hanno scelto, hanno deciso, non sono in grado, o è troppo prematuro, di iniziare a strutturare una rendicontazione ai sensi, ad esempio, del framework GRE che è il più utilizzato ed è quello che vedremo oggi con maggior dettaglio. Se vi ricordate c'era un approccio a otto steps, si erano partiti dalla necessità, chiaramente, di individuare gli obiettivi che ci si pone con la rendicontazione, che non deve essere l'ennesimo documento da allegare al bilancio, anche se quello è il momento, diciamo, della formalizzazione. Quindi il bilancio di... la rendicontazione va allegata tra i documenti del bilancio, quindi insieme a stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, chi fosse tenuto alle relazioni degli amministratori, alle relazioni del collegio sindacale, insomma, documenti classici. La rendicontazione non finanziaria, la dichiarazione non finanziaria di DNF è parte di questi documenti e sarà parte di questi documenti. Come accennavo la volta scorsa, e oggi è ovviamente ancora peggio, questi sono i giorni, le settimane in cui si presentano i bilanci. E molte imprese continuano anche quest'anno a non fare neanche alcun cenno all'essersi posti dei problemi legati alla rendicontazione ISG, Environmental, Social and Governance, ed è un'occasione perduta. Si diceva la volta scorsa anche che è un'occasione perduta, ad esempio, nei confronti del ceto bancario, anche perché il mondo bancario è, volente o nolente, è appunto interessato a sapere noi quanto siamo interessati, perché, questo anche un po' alcune delle domande che mi sono state poste, l'interesse delle banche è anche quello di spostare il più possibile una quota importante dei loro impieghi di capitale in imprese sostenibili. Quindi mi chiedono alle imprese di poter essere, di poter dimostrare, di poter dare una prova, una valutazione della loro sostenibilità. E comunque, la volta scorsa dicevamo, abbiamo concluso un po' il nostro passaggio prima di parlare del PNRR, per cui io, siccome ci tengo, ci tengo, perché è strettamente collegato all'ISG. PNRR è quella stucchevole sigla che oggi viene un po' promessa, soprattutto alle imprese, cioè sono dei fondi che sono nati, come sappiamo tutti, durante il periodo Covid, l'Italia è riuscita a ottenere questi fondi, l'Unione Europea ha detto sì, io questi fondi te li do, cara Italia, però devi dimostrare che sono anche coerenti con il Green Deal europeo. Il Green Deal europeo, abbiamo visto l'altra volta, diciamo, è il modo in cui l'Unione Europea ha interpretato, soprattutto Agenda 2030 e la Conferenza di Parigi e gli obiettivi che si è posto. quindi ora alle imprese, tutti i bandi che sono usciti finora. Io credo l'oltre scorsa ho lasciato, caso mai, insomma, del materiale che riguardava soprattutto alcuni siti, siti principi, principali, ai quali ci si rivolge quando si cerca finanziamenti, che in Italia sono per la gran parte cofinanziate all'Unione Europea. Questo cofinanziamento dell'Unione Europea, questo fatto che l'Unione Europea mette dentro questi finanziamenti una quota importante, per esempio in tutte le regioni del Sud c'è una quota molto importante del cofinanziamento dell'Unione Europea, l'Unione Europea quindi chiede che si rispecchino, che si rispettino, scusate, alcuni principi, il più importante dei quali è il BNSH, che abbiamo visto la volta scorsa e due volte fa. Velocemente, molto velocemente, perché voglio parlare soprattutto del GRI. Quindi, il PNR, voi sapete, è organizzato per missioni, andiamo un po' avanti. Ok, soprattutto ci sono sei missioni, in queste sei missioni, quelle che vedete in verde, se fate caso, sono proprio le missioni tra l'altro le più finanziate e sono tutte che ruotano intorno all'idea di transizione ecologica, di mobilità sostenibile, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 40,31 miliardi, anche questi vanno visti in chiave di sostenibilità, di qualificazione del capitale umano, innovazione, ma sempre intorno ai principi cardine del Green Deal europeo. E tra questi principi cardine del Green Deal europeo c'è appunto il principio Do Not Significant Harm, che, come ci siamo detti anche le altre volte, è un principio in base al quale non bisogna puntare a ottenere alcuni degli obiettivi alcuni dei sei obiettivi del Next Generation EU, senza comprometterne neanche uno. Quindi questo è l'aspetto un po' più difficile di rientrare in questa autovalutazione, che in qualche modo la si deve anche dimostrare. Questa cosa anche si incastra con la definizione della tassonomia, che era l'altro aspetto che abbiamo visto la volta scorsa. Io vi ho messo in, non che ce ne fosse stretta necessità, però insomma ci sono una serie di tool, di strumenti, messi in atto dall'Unione Europea che consentono di aiutarci soprattutto per la tassonomia, perché la tassonomia davvero è un fatto un po' complesso, mi rendo conto. Tra l'altro è spesso in movimento, nel senso che molto spesso c'è stata un'ultima variazione proprio da aprile, è un cambiamento. Però ecco, ci sono delle schede e ci sono dei tentativi di cercare di riuscire a identificare la nostra attività, l'attività della nostra impresa, a inquadrarla correttamente nella tassonomia prevista. È un po' come se fosse un elenco dei codici a teco per le attività economiche, è un po' più complesso perché presuppone una valutazione anche della propria attività in termini di sostenibilità e tutto lì la chiave è un po' quella. Comunque ci sono una serie di strumenti, questi sono i siti principali, molto immodestamente, ma giusto per farvi un esempio, ho messo anche dei siti che fanno riferimento al nostro studio perché per esempio ci sono delle misure che attualmente sono ancora in vigore e riguardano le start-up nei settori della transizione ecologica e dell'innovazione. Indovinate un po' qui, buona parte dello screening iniziale, quindi ancora prima di entrare nel merito dei progetti, deve essere verificata intanto il principio di do not significant harm, altrimenti si è un po' tagliati fuori, stessa cosa vale per molte delle misure che ho segnato tra i vari link Euroinfo Sicilia, ogni regione ai suoi. Sendo il nostro studio in Sicilia, noi siamo in questo momento interessati da alcuni bang, alcuni avvisi e anche questi hanno un po' spiazzato l'interesse perché è un elemento di accesso, cioè non è un punteggio in più, è proprio un elemento di accesso. Un sito importante sul quale potete guardare un po' di, diciamo, le novità su tutto il punto in cui si trova il PNRR, il primo è italiadomani.gov.it. Ovviamente voi, io spererei tanto, che voi ora non foste proprio all'anno zero rispetto a quanto viene richiesto da questi bandi perché perlomeno lo scopo di questi incontri è quello di offrire delle finestre, degli scambi e delle aperture. Il grosso lo si deve fare poi nella pratica quotidiana e in un costante, un continuo aggiornamento, soprattutto di questa materia, perché è in continua evoluzione ed è, diciamo, si sta cercando anche di, con intelligenza devo dire, di evitare che tutto questo diventi un cartificio inutile. E proprio di qualche giorno fa, un ulteriore giro di vite sul greenwashing, l'Unione Europea, a differenza di altre, diciamo, comunità economiche, è molto attenta e ha stretto ancora di più, vuoi sapere, il greenwashing è la rappresentazione, la dichiarazione che induce a vedere una sostenibilità che in realtà non c'è. Ecco, per evitare tutto questo, si sta sempre più stringendo il campo soprattutto delle dichiarazioni, quindi anche se attualmente i obbligati alla presentazione di rendicontazione nei sensi del framework GRI o di altri framework, oggi vedremo velocemente anche il SASB, che è un altro, ma uno dei tanti, però si sta cercando anche qua, per questo vi dico che è un settore in continua evoluzione, si sta cercando di trovare una composizione tra tutti questi framework che nel tempo si sono consolidati, perché sono nati non con un disegno unico, però oggi si sta rendendo conto che nascono delle esigenze di confrontabilità, di affidabilità, di rappresentazione numerica, e l'aspetto numerico la questione più difficile, e anche, come vedremo più tardi, il rendere la rendicontazione ambientale è un corpo unico, coerente, con la rendicontazione economico-finanziaria, con i bilanci, che altrimenti sono questi corpi estranei che non dialogano. Va bene, andiamo velocemente, qui c'è un glossario veloce. Per gli avvocati vorrei che faceste attenzione al fatto che è partito un contatore, per il, per la, insomma, dovete darti un'occhiata alla slide in questo momento, perché è partita la slide con il codice. Comunque si diceva dell'importanza di rendere integrato la rendicontazione economico-finanziaria con quella ambientale, quindi sempre al fine di proteggere gli interessi degli stakeholder di un'azienda, il codice, noi diamo per scontato e assodato, che è il codice civile in Italia, a rendere obbligatorio il bilancio d'esercizio. Viene anche stabilito, anche qua, secondo quella che fu una quarta direttiva, c'è il documento della rappresentazione finanziaria e patrimoniale della società. A noi sembra tutto questo oggi, tutto molto normale. Certo, non si è arrivati con grande velocità, però oggi all'interno dell'Unione Europea i bilanci sono confrontabili, sono paragonabili, i numeri, le voci, le lettere, le macrovoci sono uniformate e questo può sembrare un fatto facile e ovvio, ma oggi magari lo è, nel passato non lo è stato, e quindi lo stesso percorso lo si deve e lo si vuole intraprendere anche con la rendicontazione ambientale, che tra l'altro non è nata oggi. Non voglio neanche fare un cenno a quel... Non so se ci sono colleghi delle Emilia e della Romagna, tutta la mia solidarietà, io... è tristissimo vedere quello che sta succedendo, la frequenza e il dramma. In questi giorni, tra l'altro, io sono... Noi abbiamo avuto un'allerta... Nessun paragone, nessun paragone, solo giusto per fare un esempio. Nella zona dove vivo io, siamo stati bloccati in casa con venti che hanno raggiunto anche punte di 120 km orari, non se ne ha mai visto. a casa mia, due anni fa, è stata distrutta a casa mia in campagna da una tromba d'aria, anche questo è un evento che sicuramente si sta rintracciando, però, insomma, non voglio entrare in questo... in questo argomento, però, tutta la solidarietà per i colleghi e per le persone che in questo momento spalano fango. Vi dicevo che il problema, quindi, non è nato ora. Già nel 77 in Francia fu introdotta una prima legge, la Francia è sempre stata molto avanti in tutto questo, una legge che rendeva obbligatoria la redazione del bilancio sociale per le imprese più grandi. In Italia è famoso il caso della prima pubblicazione di bilancio sociale del gruppo Merloni, poi ci furono altri esempi, le Ferrovie dello Stato, e, diciamo, negli anni 2000 ci fu una grossa attenzione verso la responsabilità sociale ed era di, virgolette, non sono sarcastico, era di moda la Corporate Social Responsibility, che sarebbe la CSR, che ha aiutato, anzi, a sollevare, a creare molta sensibilità intorno a questo. Certo era un po' ingenua, se la vogliamo vedere con gli occhi di oggi, perché non c'erano stringenti standard e molto poteva sembrare appunto pura filantropia. In realtà è stato importante, furono pubblicati all'Unione Europea, pubblicò anche un libro verde su come promuovere la responsabilità sociale delle imprese e fu il primo passo, questo approccio fu il primo passo verso una serie di passi successivi. Quindi, il liani massima, oggi, quando parliamo di bilancio di sostenibilità e di bilancio integrato, parliamo non quindi di CSR, ma parliamo proprio di forme che rispondono a uno standard. Le imprese obbligate ad alcuni standard applicano, ad esempio, il framework GRI. Altre imprese, comunque, producono dei propri bilanci. Quindi, diciamo che il bilancio di sostenibilità nasce dal rendiconta di tutte le iniziative che un'impresa attua, racconta, rappresenta le iniziative svolte in ambito ISG, appunto economico, sociale e ambientale. Ma, oltre a raccontare questo aspetto, viene anche pubblicato, viene anche pubblicato assieme al, come dicevo prima, ai bilanci, diciamo, quelli economico-finanziari. Il rapporto integrato è, diciamo, è una rappresentazione, un'illustrazione di come la strategia di governance, quali sono anche le performance che un'impresa ritiene, di voler mettere in valore, le prospettive anche che una certa impresa ritiene importanti per gli stakeholder, che è sempre il punto di riferimento. Non dobbiamo mai, lo vedremo un po' quando entreremo un po' più nel dettaglio dei GRI, non dobbiamo mai dimenticare che tutte queste rendicontazioni devono ruotare col verretto, col cappello dell'impresa, ma sapendo che il destinatario, i destinatari, sono appunto gli stakeholder, altrimenti diventano un esercizio di stile anche abbastanza sciocco ed è anche il motivo per cui è difficile prendere un altrui bilancio di sostenibilità e farlo proprio perché sarebbe fondamentalmente sbagliato, come copiare la contabilità di un'altra impresa, non è questo l'approccio. Il bilancio invece di sostenibilità appunto è quello strumento che rendi conta i risultati sociali, ambientali nei confronti soprattutto degli stakeholder. Vediamo un po' come come abbiamo detto anche più volte, la direttiva relativa al CSRD che sarebbe la direttiva sulla Corporate Sustainability Reporting Directive che è una direttiva pubblicata nel 2022, ha ampliato la platea delle imprese che saranno obbligate e che sono obbligate a presentare la rendicontazione di sostenibilità perché in un primo momento erano interessate solo alcune società le più grosse ma anche quelle che erano quotate in borsa, quelle che avevano per esempio la società di assicurazione, le società che facciano degli investimenti quindi la CSRD ha introdotto questa platea ulteriore in Italia perlomeno dal 2024 saranno obbligate le società che hanno almeno che superano almeno due vediamo se andiamo avanti sì almeno due tra i parametri previsti che sono il 250 dipendenti 40 milioni di euro di fatturato e 20 milioni di attivo di totale l'attivo questa è le soglie che aiutano a definire un'impresa come grande in base alla direttiva 34 del 2013 quindi questa è una direttiva che amplia la precedente direttiva e questo comporterà che le imprese in ambito europeo dovrebbero arrivare a circa 50 mila aziende obbligate in Italia impatterà su circa 6 mila aziende però quello che volevo abbiamo provato a dirci anche le altre volte è che un conto sono l'estensione degli obbligati delle imprese obbligate è diverso invece gli obblighi che le imprese dovranno sentire come coinvolte nella filiera quindi in tutta la creazione del valore di una di una filiera un'impresa che si trova come anello di questa creazione del valore pur non essendo obbligata ma se a monte o a valle si ritrova ad avere delle imprese che chiedono questa impresa che magari pensava di esserne esonerata per quell'anno o per gli anni a venire perché si ritiene troppo piccola e che mai potrà crescere però si trova a dover rendicontare in qualche modo quindi il progetto generale è quello di estendere anche alle imprese tranne le micro imprese a un po' tutte le imprese negli anni ma anche oggi molte imprese si trovano a dover rispondere a dover provare a dover fare una disclosure della propria sostenibilità ed è il motivo per cui la volta scorsa avevo fatto quel percorso su otto steps che sono costruiti sulla base della mia esperienza nei GRI però che possano andare bene per tutte quelle imprese minori che vogliono rendicontare una sostenibilità senza avere ancora strumenti e devo dire anche fondi per poter costruire una rendicontazione sociale secondo il framework del GRI o altri framework io parlo sempre dei GRI perché sono quelli che si sono è il framework che si è consolidato come lo standard de facto anche se scommetto che tra 3, 4, 5 anni visti i movimenti che si stanno tutto quello che si sta muovendo intorno soprattutto in termini di integrazione con i principi contabili con gli FRS che sono principi che riguardano la contabilità ma che strettamente con i GRI stanno dialogando i board che stabiliscono gli FRS e i GRI stanno dialogando per arrivare a parlare con un'unica lingua stessa cosa sta accadendo con gli standard di revisione con i principi di revisione è davvero un momento importante che probabilmente sembra passarci sopra la testa ma se noi consideriamo alcuni aspetti base il fatto che cambino questi standard impatterà poco sul nostro lavoro quotidiano di un'impresa che a partire dal business plan e al coinvolgimento vedremo anche alcuni punti al coinvolgimento dei diciamo dei piani alti delle aziende quindi soprattutto della direzione generale gli amministratori dei CEO degli executive in particolare e poi a cascata tutti altri dovranno essere coinvolti quindi non soltanto scaricare su un team di progetto la rendicontazione l'affair della rendicontazione di un'impresa come se fosse appunto un corpo estraneo ma dovrà essere dall'alto calato fino a a tutti i punti importanti dell'azienda perché il punto di riferimento sono sempre gli stakeholder veniamo un attimo alle date quindi vi dicevo che a partire quindi dal 2024 esercizi finanziari che partono dal primo gennaio 2025 c'è questa estensione prevista della informativa CSRD quindi 20 milioni 40 milioni e 250 dipendenti per esercizi successivi che iniziano il primo gennaio 2026 le PMI quotate tranne le micro imprese saranno soggette agli obblighi per esercizi finanziari per esercizi fiscali finanziari successivi dal primo gennaio 2028 i requisiti si applicheranno alla società che genera un fatturato anno superiore a 150 milioni all'Unione Europea e come vedete non sono limiti molto alti e non sappiamo cosa accadrà da qui al 2028 se quindi verranno intercalate altre scadenze come è probabile che accada andiamo avanti quindi vi dicevo che la rendicontazione la rendicontazione diciamo il la redazione del bilancio è il momento anche in cui si presenta la dichiarazione non finanziaria la DNF presenta quindi lo stesso ITER e il problema è stato anche affrontato dalla sia dalla da Confindustria che dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili perché hanno sottolineato proprio l'interesse delle imprese ancora prima ancora prima di di dover essere obbligate a includere nella relazione sulla gestione quindi la relazione degli amministratori informazioni che vadano al di là degli aspetti puramente economico-finanziali ed è quella cosa che dicevo all'inizio di questo incontro che è stata un'occasione persa in questi bilanci perché in questi bilanci non sono tante anzi sono molto poche le imprese che hanno scelto di avere un approccio di questo tipo integrare iniziare a integrare nei propri bilanci sarebbe però è ovvio che questa cosa non si prepara non si presenta a gennaio febbraio marzo dell'anno dell'esercizio in cui si deve chiudere il bilancio l'anno precedente ma va creata va coltivata già ovviamente dall'anno precedente quindi in questo momento quello che possono fare le imprese che dovrebbero fare le imprese che io auspico facciano le imprese e anche alcune di quelle che possono essere presenti in questi seminari è che facendo riferimento al primo gennaio del 2023 intanto partano si riguardino gli otto punti che avevo presentato la volta scorsa intanto guardino quello che sono riusciti a fare indipendentemente da tutto molto spesso basta una analisi di quel che già si è fatto si sta facendo nei confronti dei dipendenti nei confronti dell'ambiente banalmente un modo di riduzione dell'energia elettrica o perlomeno risparmio energetico ma anche l'introduzione di forme di energia non fossile posso essere il primo inizio di alcuni punti iniziare in piccolo ma iniziare 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 a vedere per esempio quante donne quante persone con disabilità noi già ci ritroviamo in azienda quante persone sono da includere quali sono le attività che un'azienda fa nei confronti dei propri dipendenti quanta formazione calcolare per esempio il turnover dei propri dipendenti in azienda è un altro aspetto importante ragionare più di una volta quando si intendono rivedere alcune alcune cariche per esempio all'interno della propria azienda parlo dei consigli di amministrazione parlo del collegio sindacale cercare di introdurre comunque elementi di considerazione dei principi e ovviamente sarebbe importante e per questo che in fondo è utile anche non affrontare tutto in termini di GRI ma guardarseli studiarseli perché per esempio alcuni KPI alcuni indicatori di prestazioni possono già essere identificati i KPI performance indicator non devono essere centomila non devono essere per forza complessi e impraticabili ma sono alcuni indicatori e monitorarli e vedere un po' se ci sono spazi intanto vedere come si sono mossi negli ultimi anni sarebbe anche interessante poter mettere in valore il fatto che l'impresa negli anni ha migliorato la propria posizione in termini di sostenibilità e appunto Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ritengono proprio che queste questioni legate alla sostenibilità vadano già da ora già da subito se fosse possibile integrate e calate all'interno della relazione degli amministratori ovviamente le informazioni da inserire in un report di questo tipo dovrebbero almeno includere lo scheletro delle informazioni richieste dagli standard di riferimento che diciamo sono i GRI ma possono essere gli ESRS o qualunque altra forma io suggerisco i GRI se andate sul sito tra l'altro di GRI trovate anche in lingua italiana molti molti suggerimenti molti schemi molti tool molti strumenti che vi possono aiutare a costruire questo scheletro le questioni base che comunque vanno vanno indicate nella relazione per evitare appunto di essere di fare affermazioni apodittiche formazioni così autoreferenziali anche un po' ingenue sono quelle intanto di definire alcuni punti di definire il periodo e il perimetro della rendicontazione sul perimetro ci torniamo perché è un aspetto importante da chiarire fare un primo sforzo di analisi di materialità vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato dell'analisi di materialità che è un punto di analisi importante che ogni impresa dovrebbe fare abbiamo visto ci sono due tipi di analisi di materialità che ci permettono di capire quanto noi impattiamo sull'ambiente esterno o quanto l'ambiente esterno può impattare sull'azienda e anche cominciare a raccogliere materiale informazioni dati cercare anche di fare una disclosure di di riportare con con trasparenza se in azienda ad esempio ci sono stati degli eventi che per esempio possono essere stati incidenti sul lavoro o qualcosa del genere perché un conto è non parlarne e comunque normalmente questo in nota integra ognuno poi vede alcuni aspetti però torno un incidente sul lavoro per esempio un conto è non citarlo un conto è citarlo e non dare motivazioni e spiegazioni e un conto è anche aggiungere quali 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 modi in quali in quali modi l'azienda intende agire perché questi fenomeni questi fatti questi incidenti possano essere capitati e non capiteranno più il problema molto spesso è quello del far finta di di nulla invece il principio base di GRI è proprio questo della trasparenza quindi l'importanza di fare una rendicontazione è che ci saranno sicuramente delle informazioni obbligatorie da indicare che sono tutte le indicazioni per le quali l'azienda tra l'altro sono poi ovviamente pubbliche naturalmente quindi le informazioni obbligatorie che sono eventuali danni ambientali che sono stati prodotti sanzioni alcune informazioni legate alle informazioni sul personale se ci sono appunto stati incidenti come dicevo prima o malattie professionali il delirio che c'è stato durante il periodo covid ha anche creato molte difficoltà alle imprese però insomma l'importante è non nascondere questo è un po' un principio base è la trasparenza che è uno dei principi della contabilità non finanziaria e poi ci sono le informazioni facoltative che sono il vero aspetto qualificante se volete della relazione di quel che si può riportare nella relazione dell'amministratore quindi se ci sono stati di che importo investimenti per il personale qual è stato il costo qual è stata la percentuale rispetto a un parametro che potrebbe essere rispetto al fatturato vedere anche come si sono mossi questi investimenti nei confronti del personale negli anni se questa cosa mette in valore l'investimento fatto se ci sono investimenti ambientali se ci sono delle forme di smaltimento riciclaggio ripeto non quelle obbligatorie per legge ma politiche nuove politiche un nuovo approccio alle cose anche un nuovo approccio alla produzione ai cicli di produzione all'innovazione di prodotto all'innovazione di processo se nel frattempo abbiamo avuto certificazioni ambientali il calcolo riportare le emissioni di gas soprattutto se l'azienda non è obbligata soprattutto se l'azienda non è obbligata è il caso di riportarle ora veniamo un po' cominciamo a parlare proprio nello specifico dei GRI e vediamo anche come non ci sono solo i GRI e intanto brevemente come vedete in questo slide la rendicontazione è lo standard di fatto vi dicevo è il framework Global Reporting Initiative che diciamo è lo standard per la rendicontazione ma come vedete ci sono anche degli standard e li vedremo velocemente degli standard che riguardano l'auditing il controllo di questi standard intanto avvocati facciamo partire il contatore come si può scegliere in questo momento storico della della rendicontazione anche qual è il lo standard che può far per noi per la nostra azienda vista la potenziale grande quantità grande non direi perché nel tempo si sono consolidati soprattutto i due i due framework più tre mettiamoli che si sono consolidati sono i GRI i SASB e i AER ora la scelta la scelta dipende dipende soprattutto dal dal tipo di da un'analisi dei nostri stakeholder ripeto il punto di partenza il punto base è capire qual è lo scopo della nostra rendicontazione sociale perché se per esempio lo scopo se lo scopo è quello di se noi siamo una società di investitori forse ci potrebbe essere più utile la rendicontazione SASB forse ma se siamo un'impresa che ha un normale un'azienda di produzione un'azienda di servizi comunque lo standard che sia perché è importante scegliere anche uno standard non esotico e non magari sofisticato a parte che i SASB sono più complessi dei GRI io alla fine ho approfondito solo quelli anche se una volta per un'azienda mi sono imbarcato nei SASB visto che sono anche molto più complessi ma non perché era un'azienda che aveva le necessità di quel framework ma tornando ai GRI i GRI sono lo standard quindi avere un bilancio di sostenibilità secondo i framework GRI ci solleva dal dover dimostrare dal dover farsi leggere interpretare da potenziali stakeholder che non che non comprendono che cosa gli stiamo di che cosa stiamo parlando e allora vediamo un po' andiamo avanti iniziamo un attimo a entrare su questi standard appunto GRI GRI sta per Global Reporting Initiative circa 75 il 70 il 75% credo nel dato del 2022 era questo delle imprese che sono state che hanno presentato o che fossero obbligate o che comunque hanno scelto di presentare una rendicontazione l'hanno fatta secondo gli standard GRI quindi insomma è un po' facile la scelta e questo l'obiettivo è quello di è proprio costruito come vedremo tra l'altro vi darò del materiale se vorrete però insomma io vi suggerirei di andare direttamente sul sito di GRI perché molto del materiale che trovate lì non solo è fatto molto bene è un po' in ritardo la lingua italiana quindi partono con la lingua inglese ovviamente dopo qualche settimana comunque sarà disponibile anche la lingua italiana per i meno avvezzi alla lingua di Shakespeare ma sono molto chiari soprattutto sono aggiornati perché c'è un continuo rivedere gli standard hanno sono strutturati sia per per processo ora vedremo in particolare che per contenuto nel senso che ci sono una serie anche di contenuti di indicatori che si possono includere nel rendiconto non certo tutti gli indicatori nel senso che vi dà un quadro di quali potrebbero essere gli indicatori importanti per voi non è detto che li dobbiate tutti rendicontare se non si adattano se non rendono chiaro il quadro finale anche questo è un è frutto di un lavoro antico se partire i primi sono stati una parte che il board l'organizzazione è nata fino agli anni 90 nel 97 e la prima linea guida è stata pubblicata nel 2000 poi ci sono stati una serie di di linee guide successive 2006 la 2000 nel 2013 ci fu il primo diciamo era già giunta a maturazione ma nel 2016 nascono proprio i gerai standard quindi la prima forma standardizzata è diciamo adulta degli standard non è molto molto lontana nel tempo quindi io vi suggerisco andare sul sito i principali aspetti sono che vengono presi e vi accompagnano tra l'altro il meccanismo con cui funzionano questi standard vi aiutano nell'identificare la materialità molte delle cose che ci siamo detti sulla materialità nei giorni scorsi attengono all'importanza di capire che cos'è però il passaggio poi è molto fluido passo passo attraverso la costruzione del workflow dei gerai è più facile a guardarli che a parlarne un aspetto importante della materialità è che appunto per come è costruita in GRI è proprio fatta in modo da permettere poi un doppio tipo di controllo un interno che ovviamente è svolto poi dal collegio sindacale ho dimenticato di dirvi questo che è il il rendiconto il bilancio sociale il rendiconto GRI di sostenibilità GRI viene anche supervisionato dal collegio sindacale ed eventualmente lo lo si può fare anche lo si può sottoporre a auditing nel caso in cui lo si sottoponga a auditing ovviamente deve essere svolto da una società terza una società esterna che verifica come è stata preparata la dichiarata di DNF e eventualmente ne può anche attestare la conformità questo non vuol dire che la mancanza di una dell'attestazione della società di revisione buchi il significato stesso di una di una di una rendicontazione GRI ma è certo la validazione che oggi è considerata necessaria in alcuni casi anche obbligatoria ecco questo è un po' il modo in cui funzionano i standard GRI ci sono degli standard universali che riguardano alcuni aspetti generali di tutte le imprese ok che quindi riguarda una serie di informazioni che ripeto come si è detto anche le altre volte dovrebbero passare attraverso un processo di riesame di tutta la strategia aziendale cioè mettere mano vi renderete conto al dover descrivere quali sono qual è la governance le strategie l'etica l'integrità l'impegno degli stakeholder le pratiche di reporting eccetera è chiaro che passa attraverso la pianificazione strategica dell'impresa anzi può essere l'occasione per rimettere a posto una serie di non detto di non detti che ci sono all'interno dell'impresa anche di successo di business plan che si pensa sempre di non avere il tempo di portare a termine perché non si ha mai il tempo di fermarsi è ironico quello che dice non lo penso realmente il momento della pianificazione e della programmazione è forse più importante poi dell'azione accorgersi tardi che il mercato è andato altrove ovviamente è un è un errore classico di quelle organizzazioni che pensano di non avere il tempo di fermarsi riflettere e riorientare l'azienda verso il mercato oggi questo è l'ennesima occasione che si offre con una serie di ricadute positive questa della rendicontazione della sostenibilità con una serie di ricadute diciamo positive anche poi in termini appunto di mercato e di rating bancario di rapporti con le imprese però è anche l'occasione davvero di fare di nuovo il punto è ricostruire i business plan dell'intera nazione noi non abbiamo troppo la cultura in Italia del business planning del creare un'impresa sulla carta per evitare di sbagliare poi durante il mercato è più del mondo anglosassone abbiamo sempre anche la contabilità nostra costruita in questo modo quindi invece quindi vi dicevo è il momento per fare delle riflessioni quindi sono degli standard universali e degli standard specifici per materia su alcuni aspetti della sostenibilità specifici della singola impresa quindi alcuni per tutte le imprese alcuni proprio specifici che si possono fare solo dopo aver identificato o aver fatto la nostra analisi di materialità quindi è diviso ecco guardate i colori i colori non sono personali questi sono tratti proprio dal sito J.R.I perché gli standard sono c'è questo viola questo verde questo arancione ora vedremo anche tra l'altro quali sono le ultime novità ultime che poi risalgono al 2022 comunque che impattano sul 2023 e che appunto riguardano soprattutto economic topics e environmental topics più ancora che i social topics comunque poi li vedremo questi sono appunto noi potremmo immaginare tutto questo può sembrare overwhelming come dicono gli inglesi c'è soverchiante cioè che noi ci buttiamo no non è così questo è il modo in cui gli standard vengono rappresentati e come si deve anche seguire il flusso logico degli standard ma il flusso logico poi in fondo è questo il primo è studiarsi davvero bene i GRI qual è la logica quali sono qual è il non detto qual è cosa c'è lì dietro le informazioni che vengono rappresentate quindi studiarseli molto bene a mio avviso non perdete tempo nel guardarvi tanti altri standard non sono pagato da da GRI ma ma credo che in questo momento non è tempo il miglior tempo è riposto nello studiarsi GRI quindi studiarsi elementi chiave e degli standard identificare fare questa analisi dei della propria materialità quindi comprendere bene la nostra organizzazione molto spesso molto spesso si danno per scontato molte cose molto spesso si replicano si duplicano si continuano delle dei processi come si è sempre fatto così e quindi mentre invece questo potrebbe essere il momento per passare da vernici tradizionale a a vernici con eh nanomolecole può essere il momento che che davvero il l'aspetto ambientale ci permette di entrare in mercati nuovi che abbiamo sempre visto visto come non non necessari non appartenenti alle nostre abitudini produttive vuol dire programmare anche programmare i prossimi due tre quattro cinque anni per arrivare a essere qualcosa di socialmente sostenibile perché altrimenti il mercato ci mette fuori quindi questo vi dà anche la 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 misura del fatto che ISG è una una disciplina trasversale in tutti gli ambienti in tutte le funzioni aziendali ci ritroveremo una ricaduta ed è per questo che uno poi ci torneremo uno degli aspetti più importanti è il coinvolgimento del top management quindi valutare vi dicevo la l'organizzazione l'analisi della della materialità la significatività degli impatti voi sapete che un modo di misurare i rischi il rischio si definisce non solo per la probabilità che un certo fatto avvenga ma anche per il danno che quell'evento dovesse succedere può creare può essere creato o sull'impresa o sugli stakeholder quindi questa definizione di rischio la significatività degli impatti che derivano dall'analisi della materialità è un altro aspetto importante non c'è modo se non la vostra possibilità nella vostra azienda o se siete gli assistenti delle aziende l'analisi che potete riuscire a fare le informazioni che riuscite a trarre vedremo l'importanza del team del team di progetto ISG uno dei problemi che ci poniamo che mi pongo che mi sono posto sul quale ho sbattuto molto spesso è la resistenza da parte all'interno di un'azienda da parte del personale cioè sembra quasi sembra quasi che si sia si stia parlando di aspetti che non impattano sull'economia sul futuro dell'impresa ma non mi vengono i termini tutti i termini che mi vengono sono deteriori però molto spesso viene considerato come qualcosa di superfluo ecco fino a una discussione che ho avuto stamattina con un'impresa cliente molto intelligente cioè il manager sono persone molto sensibili molto intelligenti molto su mille aspetti sono molto anche però di fronte ad alcuni alcune evidenze della loro azienda si sono irrigiditi nel senso che viene considerata come una cosa che di là da venire ok va bene non abbiamo parlato fin troppo quindi la materialità dalla materialità noi possiamo riuscire a compilare vedete i standard standard universali standard di settore standard tematici se non abbiamo fatto prima questa analisi questa comprensione della nostra organizzazione della nostra materialità non saremo in grado di compilarli mettiamola così il termine compilare suona un po' sciocchino è brutale però in realtà si tratta sì di seguire ed è importante anche eventualmente se ci fossero degli aspetti che non si applicano spiegarli prendere un appunto del perché la nostra siano non applicabili alcuni degli standard al nostro caso nulla di strano sono tantissimi voi non potete mettere insieme una azienda che fa crociere con un'azienda che produce vernici e con un manginificio è chiaro che tutto qua ci saranno dei punti comuni ma ci saranno anche dei punti che si che distinguono le varie attività questo questo è l'aspetto dell'indice allora io vi darò una serie di bilanci di sostenibilità voi vi ricordate che abbiamo visto l'altra volta velocemente l'analisi di sostenibilità il bilancio di sostenibilità al 30 giugno 2022 di Banca Interesa ok l'aspetto più importante di tutti questi documenti che nonostante tutto nonostante la mia personale voglia di stringere sui numeri sulle quantità di pagine raggiunge normalmente i 100 110 120 130 pagine ma l'executive summary è l'aspetto più importante non può durare più di non può essere più lungo di 4 5 pagine dove ci sono ora vedremo anche un po' un indice possibile però è quello che verrà letto probabilmente dalla gran parte di stakeholder e ovviamente l'indice questa executive summary non potrete scriverlo che alla fine come nei business plan un business plan per chi ne ha fatti se ci riflettete un attimo l'executive summary è la parte più importante ma è l'ultima che poi viene creata perché in una pagina in un paio di pagine riassume la logica e riassume gli elementi chiave e che probabilmente sarà l'unica parte che verrà letta da molte scrivanie brevemente vi volevo accennare comunque ai SASB Sustainability Accounting Standard Accounting sempre in questa ottica di sostenibilità accounting non financial accounting ovviamente Standards Board che è un altro board un'altra organizzazione che sviluppa che ha sviluppato standard di sostenibilità in genere aiutano sono sono stati creati sono nati soprattutto per la disclosure degli investitori quindi per dare dimostrazione della loro performance di sostenibilità un investitore non solo è interessato appunto a finanziare a investire su imprese sostenibili ma deve anche abbiamo visto come è anche obbligato per legge deve dimostrarla questa sostenibilità i SASB sono un po' ruotano sono creati nascono intorno a questa a queste idee anche perché sono molto più spostati su una metrica è più facile da associarli a un bilancio un bilancio tradizionale e anche loro rivedono anche SASB rivede continuamente questi standard il futuro comunque il futuro sarà quello del cioè stanno cercando di dialogare di dialogare probabilmente non so dire proprio non vi so dire quando probabilmente stringeranno un accordo con GRI e se ne farà un unica comunque un modo dialogante di riportare la sostenibilità quindi dicevo che appunto servono soprattutto a aziende che di investitori tra l'altro anche sono costosi sono più costosi perché semplicemente nascono con altri scopi e richiedono informazioni molto più dettagliate davvero molto all'interno di un'azienda è molto importante impatta molto è una specie di rumore di fondo molto importante molto continuo i GRI sono meno impattanti nella vita day to day e comunque dal 2021 SASB e GRI stanno cercando di allinearli questi standard di venderli in qualche modo dialoganti quindi in definitiva qual è il mio framework io ripeto che GRI dovrebbe essere se siete degli investitori i standard SASB forse sono i più adatti che sono un po' lo standard per le imprese che fanno per gli investitori mentre altrimenti io suggerisco di puntare sui GRI e non perdete tempo attraverso ad altre cose ecco vediamo un po' il percorso di come si come si organizza avete visto prima quella specie di flow chart però in realtà ancora prima ancora prima della quella dell'analisi dell'organizzazione e dell'analisi della materialità è importante che si crei questo team di progetto c'è un team che di poche persone se volete non potete essere voi consulenti esterni non possiamo essere noi consulenti esterni e arriviamo con il nostro moduletto con i nostri software ci sono anche dei software che aiutano è necessario un team che sarà appunto responsabile del coordinamento di tutte le attività legate alla sostenibilità non al GRI capito cioè quel che intendo è che il GRI è solo la rendicontazione ci vuole un team all'interno di un'azienda che vagli che verifichi che ogni azione che si svolge che ogni ogni iniziativa ogni venga vista alla luce della di quanto impatti in termini ESG non è un mental social governance quindi è un organo di staff di altissimo livello di alto livello e poi ovviamente è necessario stabilire un piano un piano d'azione un action plan che non è soltanto ovviamente la sessione deve occupare il team di progetto non deve elaborare solo un piano di azioni vi ricordo sempre che questi piani di azioni devono essere smart cioè le azioni devono essere all'interno di un piano più ampio devono essere elementi specifici misurabili devono avere delle linee temporali delle date ben precise dovrebbe essere quindi basato su quel che già c'è in azienda e non arrivate in azienda suggerendo modifiche come chiunque abbia esperienza di come controller controller osserva quel che già c'è un controller esterno un controller è colui che si occupa del controllo di gestione per chi non è molto contabile non ha una base contabile è colui che si occupa del budgeting del reporting dell'analisi degli scostamenti di un'azienda capire un po' l'azienda come sta andando ecco il controller alla stessa maniera di un di un consulente ESG se entra in azienda osserva quel che già c'è poi solo in una fase successiva e in maniera non non invasiva non invadente anche modifica suggerisce può dare delle informazioni sui processi sulla base anche delle informazioni numeriche disponibili su per esempio analisi di benchmarking nei confronti di concorrenti per individuare delle aree di miglioramento sempre con un'ottica molto soft cioè noi oggi non abbiamo non dobbiamo entrare in azienda pensando di di rivoltarle dentro o fuori semplicemente dobbiamo osservare prendere atto individuare aree di miglioramento e spostare in là un po' alzare un po' la sticella se possiamo quindi il team di progetto deve anche identificare quali sono questi questi queste aree questi temi ESG importanti per un'azienda non possono essere 20 30 perdiamo focus quindi bisogna soprattutto individuare quali sono i temi e questo è anche una logica GRI funziona proprio così identificare quali sono le aree di intervento rilevanti per una certa azienda e lavorarci su allora questo è il diciamo l'indice di cui parlavamo prima è che dal quale dovremmo riuscire a determinare poi il nostro executive summary cioè questo sommario quindi un bilancio deve avere normalmente questi elementi se ci fate caso ne trovate a tonnellate di bilanci disponibili sui siti delle società più grandi o comunque anche per forza più grandi ormai sono molto diffusi i bilanci di sostenibilità e li trovate anche è curioso questo è bello vederlo che per esempio un bilancio di sostenibilità di un'azienda tedesca francese inglese in base alle vostre capacità di interpretare di leggere sono tutti strutturati allo stesso modo cioè GRI è uno standard internazionale e questa è una cosa bella in un mondo che oggi è veloce e globale a differenza di quel che è successo con fatica negli anni 90 sulla quarta direttiva CE per la contabilità economico-finanziaria questi standard nascono già sono nativi in maniera internazionale in maniera nativa quindi una lettera agli stakeholder redatta dal vertice aziendale che fornisce una panoramica un'introduzione alle tematiche che l'azienda vuole mettere in valore qui se vorrete farci caso e volete andarvi a fare un giro tra queste slide alla fine io ho riportato ma non abbiamo il tempo e il caso di guardarle nel dettaglio ma giusto per dirvi comunque cogliete il colore arancione il colore degli standard di cui parliamo prima della Costa Crociere Costa Crociere ovviamente come tante altre imprese che operano in un settore sempre più sensibile e anche sempre più energivoro cioè ciò che prima appariva come non energivoro improvvisamente lo è diventato di fatto fare una crociera non è soltanto energia elettrica o energia motrice insomma per esempio mettere in valore una scelta del tipo l'acqua che acqua è l'acqua che utilizziamo per non tante non solo per bere è acqua potabilizzata a bordo con quale impatto energetico conviene caricare l'acqua dal porto di partenza e trascinarsi tonnellate di acqua per tutto il Mediterraneo per i fiordi della Norvegia o abbiamo fatto dei calcoli misurabili delle riflessioni degli studi dei micro studi insomma per calcolare dove ci conviene rifornirci di acqua a metà strada nei porti in cui ci fermiamo per non dire l'impatto ambientale di queste città del mare che attraversano posti anche molto fragili anche la scelta delle rotte e come dicevamo le volte scorse molto spesso queste aziende che è comunque il cui bisogno servito bisogno di marketing servito è quello di portare le persone nella laguna Veneta e nei fiordi o nelle isolette greche laddove non si riuscisse in qualche modo a a a mutare il business in qualcosa di più ecologico che poi comunque magari ti trovi competitor che continuano a andare in questi posti fragili cioè con un ambiente fragile non ne vuoi non puoi non vuoi rinunciare il tuo core business la legge ancora ti consente di fare questo genere di questo forma di vacanza cerca almeno internamente di farti un'analisi ISG molto il più possibile dettagliata solleva anche non sono sarcastico ma quasi solleva anche dal senso di colpa dei tuoi eventualmente dei tuoi clienti il fatto che comunque dai la possibilità infatti una delle prime delle prime cose se andate sul sito di una qualunque società di questo tipo è proprio l'aspetto della sostenibilità perché il cliente vuole sapere di aver fatto una vacanza serena senza aver impattato e oggi sono cambiate moltissime le cose queste vacanze così un po' ingombranti tengono conto degli aspetti che vi ho appena detto di questi calcoli di questa ma anche della compensazione vi dicevo che un aspetto importante è questa della compensazione cioè io ok faccio un volo aereo sono Ryanair sono EasyJet do la possibilità al mio cliente di compensare una parte del mio consumo di CO2 con la partecipazione a progetti in un altrove qualunque del pianeta ok tutto questo è comunque vi dicevo è prassi ormai consolidata ma è molto vicina a un'idea anche di greenwashing i clienti sono anche molto smaliziati sanno che molte cose si raccontano appunto perché si cerca di compensare soprattutto la produzione di CO2 e comunque vi dicevo che i contenuti del bilancio devono contenere una lettera di stakeholder una nota metodologica questa è importante la nota metodologica illustra i principi base di redazione del rapporto e qui tanto materiale che GRI mette a disposizione aiuta il perimetro della rendicontazione cioè cosa stiamo rendicontando noi della nostra attività tutta la nostra attività o quella che il perimetro nasce dall'aver individuato bene stakeholder e aver fatto un'analisi di materialità solo dopo può nascere il perimetro però va riportato come prima voce voi sapete anche nei business plan questo processo iterativo nella produzione di un business plan cioè voi lo costruite a matita per poi tornare indietro perché se alcune cose non funzionano dovete ritornare indietro le dovete rivedere è un po' anche qua nella nella GRI l'approccio è un po' questo con una differenza con una differenza nella GRI alcuni dati sono accaduti nel passato il business plan è previsionale la GRI però consente anche di soprattutto nella parte della lettera degli stakeholder di raccontare quel che è ma anche quel che si intende fare quindi è importante è importante è evitare che se quest'anno noi abbiamo fatto emergere dalla nostra rendicontazione degli aspetti di scarsa sostenibilità da un anno all'altro questi aspetti devono essere mutati perché noi ci siamo abbiamo un gruppo abbiamo detto che c'è un un gruppo di lavoro ISG che cambia che ha individuato alcune aree critiche e le sta cambiando negli anni quindi ho dimenticato di dirvi che una volta che voi presentate per una volta un bilancio di sostenibilità entrate in un club cioè nel senso non potete è un bruttissimo segnale se l'anno successivo non lo presentate sto parlando di imprese che non siano obbligate quindi una volta che decidete di presentarlo lo presenterete ogni anno ovviamente il profilo dell'organizzazione che si intende la mission la vision i valori le attività svolte i prodotti i servizi offerti come è organizzata internamente come è geograficamente organizzata se è presente all'estero quali sono le dimensioni sulla governanza e la strategia spiegare se non si è mai formalizzato sarebbe il caso di farlo l'organigramma e come questo organigramma sempre in termini di sostenibilità è stato strutturato e poi ovviamente la rendicontazione degli aspetti di materialità che sarebbero poi il modo in cui gli standard ci inducono a entrare lo stesso sono proprio i GRI che vi aiutano a seguire queste sei fasi strutturate di processo quindi la mappatura iniziale degli stakeholder che richiede uno sforzo di fantasia molto spesso per dire stakeholder è anche lo Stato perché lo Stato attraverso le nostre imposte è interessato al nostro essere sostenibile non soltanto in termini ambientali ma proprio anche in termini economici quindi gli stakeholder sono davvero una definizione molto ampia molto ampia che non può arrivare a indicare lo Stato è giusto è stata un'osservazione fatta tra noi però per dire come molto spesso è qualcosa di non apparente apparentemente gli stakeholder sono dipendenti clienti è molto più ampio molto spesso passa attraverso sempre un'analisi dei nostri fornitori chiave incluse le banche poi l'analisi della materialità interna intanto cioè in questa l'analisi della materialità è forse l'aspetto più più difficile per un esterno sono più i vertici la parte alta dell'organizzazione che ci aiuta a fare questa analisi noi possiamo suggerire possiamo indurre tra l'altro GRI appunto dicevo vi da molti spunti di analisi quindi si analizzano tutte le questioni interne si elencano gli aspetti che possono avere questi impatti importanti sulla performance di sostenibilità dell'azienda in chiave di rischio anche e questa definizione dei temi materiali è un punto chiave quindi identificarne inizialmente cercate di identificare i principali non perdetevi a spacchettare qualunque cosa identificate i temi materiali più importanti e questa mappatura in genere questa mappatura della materialità la si svolge attraverso dei questionari che vengono predisposti al team di progetto di cui potete anche far parte voi come organo di staff esterno e poi però molto spesso passa anche dalla presentazione di questi questionari ai vostri stakeholder principali se non a tutti almeno quelli che voi identificate come i più importanti e poi c'è un'analisi di materialità cosiddetta interna che è la terza fase di questi sei passaggi in questo senso è davvero importante riuscire a parlare con i responsabili all'interno dell'azienda delle varie funzioni parlare con con i dipendenti organizzare capire anche come dal vertice a tutta l'azienda qual è la visione che possono avere anche i lavoratori all'interno dell'azienda controllare una serie di percorsi per esempio fare un'analisi dei fabbisogni formativi sarebbe una delle cose più importanti ma non la potete fare in fase di rendicontazione è un dato informativo che molto spesso non è a disposizione però ci si rende conto quando si deve mettere nero su bianco che non l'abbiamo mai fatto all'interno dell'azienda un'analisi dei fabbisogni formativi quindi anche questo il quarto punto è quella della definizione del cosiddetto cruscotto degli indicatori questo cruscotto degli indicatori non è altro che lo strumento poi operativo con cui si identificano quei KPI che vi dicevo all'inizio che i key performance indicator che sono proposti anche degli stessi standard GRI che davvero all'interno ne descrivono tanti voi dovete individuare i vostri quindi per ogni indicatore si deve riuscire a individuare quelli che sono realmente importanti per noi e soprattutto cercare di scegliere quelli per i quali noi siamo in grado di fornire metriche quantitative difficile perché molto spesso si tratta di aspetti qualitativi che vanno trasformati in metriche quantitative sembra molto molto ovvio ma alla fine mettendoci mano nascono le stesse aziende si si rendono conto di come di come molti aspetti siano sempre sfuggiti al controllo soprattutto dei vertici aziendali un altro aspetto è quello della raccolta dei dati dicevo prima la mancanza di un'analisi di fabbisogni informativi ma al di là dei fabbisogni informativi anche un'analisi dei fabbisogni sociali dei dipendenti quanti dipendenti hanno figli quante mamme lavorano l'ipotesi di un asilo nido l'ipotesi degli orari di una commissione un comitato interno che stabilisca gli orari di lavoro anche in base alla possibilità di dare flessibilità ai propri dipendenti ecco tutti questi aspetti ovviamente vanno costruiti vanno costruiti per gli anni però sono delle aree di miglioramento che possono essere introdotte all'interno delle aziende poi alla fine ovviamente l'elaborazione dei dati che poi devono si incorporano nel bilancio vero e proprio che normalmente viene reso pubblico non soltanto attraverso il deposito al canale di commercio ma attraverso la pubblicazione sui propri siti anche l'invio della stampa su brochure di qualità da dare agli stakeholder principali ai propri portatori di interesse volevo soltanto un attimo loro alcuni punti il problema del team di progetto il team di progetto ha una serie di deve essere in qualche modo sensibilizzato quindi molto spesso è preferibile iniziare davvero in pochi voi con qualcuno e a poco a poco allargare l'ambito allargare l'ambito tenete conto sempre di una regola generale che ognuno di voi dovrebbe al massimo coordinare tre persone ognuno di queste persone dovrebbe coordinare almeno tre non di più se pensate di creare un team di progetto con più di tre persone correte il rischio di non portarvi a casa il lavoro purtroppo è un dato statistico nudo e crudo magari ci saranno team di progetto di grande successo con quattordici o quindici elementi ma il mio consiglio è di creare inizialmente un team di progetto di non più di tre persone più voi e in prima battuta coinvolgete i vertici il più possibile perché c'è anche un problema di competenze interne spesso alle aziende perché non si sono persone che non si sono mai poste figure anche professionalmente eccelse nel loro ruolo ma ne sono mai poste le questioni dei problemi ISG l'altro è molto spesso per esempio anche essere necessario appoggiarsi al coordinamento di esperti di settore se le informazioni le avete voi vi accorgete che alcune informazioni importanti non sono nella disponibilità dell'azienda e dei suoi dipendenti suggerite l'eventuale necessità di esperti di settore vi diciamo che i SASB sono più costosi perché molto spesso è necessario coinvolgere il personale esterno per avere delle metriche più fondate un altro aspetto importante e delicato dell'action plan del piano di lavoro è quello di avere informazioni di qualità voi sapete gli inglesi gli americani usano il termine garbage in garbage out cioè se io in un processo di analisi butto dentro spazzatura avrò l'uscita spazzatura questo è un dato immaginate un bilancio fatto con dati non affidabili sarà un bilancio ovviamente non affidabile quindi qua la qualità e l'attenzione alla qualità dei dati un altro aspetto dedicato che spesso possono emergere dati sensibili pensate all'aspetto S di ESG mi è capitato di avere grandi difficoltà di avere percepito difficoltà e sensibilità che vanno anche al di là del GDRP quindi chiaramente deve essere tutto conforme alle normative sulla privacy ma quando si vuole entrare nello specifico delle singole aziende e del benessere dei dipendenti si può davvero si deve camminare come se si camminasse sulle uova galline coltivate a terra chiaramente ma anche qua c'è molto greenwashing sulle galline coltivate a terra stipate non voglio entrare in questo tema le informazioni devono essere anche tra l'altro verificabili è importante che queste informazioni siano che sono poi quelle di supporto che non siano bucate dal fatto che sono informazioni non serve che siano informazioni numeriche scritte con grande certezza è importante che siano verificabili ed eventualmente si devono fare anche dei controlli a campione come si fa appunto nel controllo di gestione o anche nella revisione contabile perché laddove tu non puoi entrare nel controllo di ogni singolo processo alcune cose le devi vedere anche al di là di come ti vengono raccontate dai vertici aziendali che possono avere il piacere di raccontare una realtà che magari è nella loro testa o è nella loro esperienza quotidiana ma che poi sfugge invece a loro sfugge ma la realtà dell'azienda è altra con un livello di benessere molto basso andiamo avanti ok si parlava poco fa dell'idea del perimetro ok questo è un esempio di perimetro allora il problema del perimetro è simile al perimetro finanziario voi se qualcuno di voi si è mai dilettato a fare un'analisi di bilancio si può essere accorto che intanto la raccolta dei dati quantitativi può essere tantissima si parte dall'analisi di bilancio ma molto spesso il bilancio va integrato da informazioni che non sono nel bilancio presentato alla Camera di Commercio bilancio da codice civile sono necessarie delle informazioni di colui che è dell'estensore del bilancio che molto spesso è il firmatario è l'amministratore però è il contabile o comunque la funzione amministrazione dell'azienda quindi può essere importante avere informazioni del tipo parliamo dei dipendenti italiani o anche dei dipendenti eventualmente esteri che abbiamo in azienda qual è il perimetro che ci interessa è l'idea che dobbiamo avere sempre quella degli stakeholder a chi deve essere presentato a chi interessa questo nostro questo nostro bilancio di sostenibilità è virgola parallelamente impatta nella nostra idea di materialità il fatto di distinguere tra dipendenti italiani ed esteri sì no perché a che serve in alcune condizioni scendere molto nel dettaglio se scendere molto nel dettaglio non ci aiuta non facciamolo ecco il perimetro non può essere infinito anche perché se no perderemmo non solo ci perderemo nel lavoro ma perderemo anche nella qualità della rappresentazione sintetica della sostenibilità della nostra imprese pensate ad esempio ad argomenti legati agli aspetti non so legali della sicurezza in alcune in alcune aziende in cui ci sono degli indicatori importanti come l'emissione di gas serra di rifiuti pericolosi tutto questo determina la materialità è poco utile non racconta tutto dell'azienda non parlare di questi aspetti che sono quelli realmente importanti parlando di tant'altro che i GRI in qualche modo di fatto escludono i GRI sono costruiti in maniera tale da costringerci un po' a riflettere sulla materialità davvero importante il suggerimento comunque in generale di partire come dicevo l'altra volta partire iniziate in maniera piccola cercate di rappresentare tutto senza nascondere niente sotto il tappeto studiatevi bene i GRI a monte questo è un altro aspetto importante ripeto la materialità va identificata attraverso una discussione interna che alla fine non potete essere voi consulenti esterni a imporre quali possono essere la mappa della materialità deve essere condivisa casomai poi non vi mancherà tempo e occasione per lavorare su delle aree parallelamente che voi identificate come delle aree su cui lavorare quindi raccogliete informazioni e dati create questo gruppo un gruppo di poche persone ma di qualità per qualità intendo che vi possano tornare utili per l'obiettivo della raccolta delle informazioni e iniziate a scrivere il vostro progetto un aspetto importante è quello di non aver paura a chiedere feedback ai vostri stakeholder cioè mandate il mandate questionari mandate non abbiate nei limiti di quanto questo non possa danneggiarvi in termini di competitività se stiamo parlando di clienti o di fornitori però alcune informazioni si possono provare a condividere con i nostri stakeholder e ottenere eventualmente un risultato di feedback insomma in qualche modo per riuscire a migliorarsi perché questo aspetto del miglioramento è un aspetto base vabbè sorvolerei perché non abbiamo il tempo ma perché comunque è un continuo divenire come vi dicevo su cosa cambia dal 2023 semplicemente vi faccio molto breve il quadro GRI sta stringendo soprattutto sempre di più con vi dicevo con gli IFRS e anche queste novità vanno nel 2023 vanno in quella direzione cioè nella direzione IFRS per chi non fosse un contabile avessero la fortuna di non essere un contabile IFRS sono principi che vengono utilizzati nella contabilità economico-finanziaria ora gli IFRS sono International Financial Reporting Standards come potete immaginare i principi contabili internazionali con cui si costruiscono i bilanci italiani per essere facilmente paragonabili o comunque comprensibili in ambito internazionale al di là della forma obbligatoria prevista dal cosiddetto civile che ricepisce una direttiva di quella che una volta era la comunità europea quindi la forma è stabile ma la qualità dei numeri le valutazioni questo è un bilancio non è basato solo su dati oggettivamente oggettivi nel senso che alcuni possono essere oggettivi ma alcuni faccio l'esempio le rimanenze sulle rimanenze delle merci ci sono delle valutazioni che vengono fatte quindi i FRS in qualche modo sono standard contabili e i GRI sono standard contabili della contabilità diciamo non economico-finanziare della sostenibilità e quindi nei prossimi anni quello che vedremo tutti è una confluenza una congruenza tra l'altro sollecitata da tutte le associazioni contabili mondiali tra l'altro anche dal nostro ordine all'ordine dei dottori commercialisti quindi diciamo che mentre i GRI si concentrano sul reporting di sostenibilità gli FRS si concentra sul reporting finanziario ma tra l'altro ci sono anche delle sovrapposizioni perché spesso gli FRS richiedono alle aziende di divulgare di fare una disclosure delle informazioni sull'impatto ambientale quindi i GRI il board che sono dietro i GRI e il board che sono dietro gli FRS stanno collaborando e l'anno scorso hanno firmato un memorandum un memorandum of understanding per una collaborazione per trovare uno standard comune quindi vi rendete conto dell'enorme complessità che può essere perché già il corpo dei principi contabili del FRS è un mondo molto complesso GRI è un mondo molto complesso cercare di far parlare però la direzione è un po' quella quindi abbiate la pazienza di visto che abbiamo deciso di occuparci di di questo modo di stare al mondo noi e le nostre imprese abbiate la pazienza di studiare continuamente le evoluzioni normative perché attualmente sono più che qualunque altro corpo normativo sono in evoluzione già per esempio tutta la normativa sulla privacy sia in qualche modo assestata sulla base di alcuni principi la stessa cosa è avvenuta con ISG GRI è solo rappresentazione dei principi ISG e oggi vedere il photo finish finale sembra un lavoro facile ma in realtà è stato Agenda 2030 eccetera c'è stato un grosso lavoro di coordinamento ecco oggi noi cerchiamo di stare appresso al tempo con i GRI e gli FRS perché alla fine cammineranno insieme mi rendo conto che chi non è contabile si può ritrovare un po' spiazzato da alcune cose ma questo è il mercato dove sta andando io credo avere finito sono le sette che sono le sette sono le sette Grazie a tutti.